Ascoltato ieri a Locri durante il processo Xenia, il colonnello delle fiamme gialle Nicola Sportelli, secondo l'ufficiale per la manifestazione riacese Riace Film Festival del 2015, sarebbe stato versato un contributo da parte delle associazioni, che avrebbero partecipato con un versamento in base all'importanza che avevano nel contesto dei progetti di integrazione degli immigrati. Sul punto il colonnello Sportelli, rispondendo inoltre alle domande del PM, ha evidenziato che l'accusa si fonda non solo sul contenuto delle intercettazioni avvenute nel contesto dell'inchiesta Xenia, ma anche da alcune dichiarazioni rese successivamente da uno soggetto che si trovava ai vertici di una delle associazioni riecesi. Il colonnello inoltre ha risposto alle domande della difesa di Lucano, composta dagli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D'Acqua sull'utilizzo degli immobili e del contenuto di alcuni appartamenti. Intervenuti inoltre altri difensori, in particolare l'avvocato Lorenzo Trucco, che ha evidenziato la regolarità dei pagamenti dei dipendenti, e poi l'avvocato Salvatore Zurzolo, che ha fatto emergere l'esclusione della sua assistita Cosimina Ierino dalla gestione di alcune importanti vicende monitorate nel corso dell'indagine. In seguito, dopo le domande dell'avvocato Giuseppe Di Salvo, il colonnello ha escluso la partecipazione dell'Associazione Riace Accoglie dal versamento di fondi per i Riace Film Festival del 2017.